Buongiorno a tutti. Siamo studentaci e oggi vi insegniamo come fare un tiranissù. Questa ricetta è molto facile e delicioso, ma è importante che voi ascoltiate bene. Peggio per te. Prima che comunicati, vi asegurati che il vostro spazio di lavoro è pulito e organizzato. Preparate tutti i materiali. Le scoldele, le forchette, il estintore, il computore e le spazzoline. Adesso si comincia da facendo la crema. Si aggiungono 100 grammi di zucchero alla scudella. Mescolate bene. Poi si aggiunge un litro di latte. Sarebbe ottimo che voi usate il latte di carburante, ma tutti i tipi saranno sufficienti. Certo. E poi si aggiunge il burro. Si, non puoi mai avere troppo burro. Dopo, le uova, il ketchup, la spremuta d'arancia e il pane. Mescolate tutti. Mentre loro fanno la crema, comincero con i savoiati. Ordinatele con cura sulla teglia. E poi colpitele. Continuate a li colpire fino a solo le picciole rimangono. E' importante che tutti facciamo qualcosa per essere più efficienti possibile. Ah, guardate! Ha la braccia rubata all'agricolatura. Allora, Elijah, che cosa stai mescolando? Non mescola niente. Siamo quasi finiti. Adesso dobbiamo solo aggiungere la crema ai savoiati. Finalmente si aggiunge l'ingrediente segreto. Una scarpa. E lo mettiamo in forno. Ho fame. Spiegati, quanto tempo dobbiamo aspettare? Non hai neanche aiutato. Senza pelle, tutta lingua. Tu non hai fatto niente. Perché? Tu sei chi? Dovresti partire. Non puoi mi dire di partire. Questa è la mia cucina. Cavolo, non hai fatto niente, hai solo usato il cellulare e pagato inutilmente per la cucina. Ok, dovrebbe essere finito. Wow. Che bello. Wow, spettacolare. Perfetto. Penso che questo tiramisù sia il migliore del mondo. Finito. Grazie per aver cucinato con noi. Speriamo che vi piaccia il tiramisù. Eravamo i studentacci e era... In cucina. Grazie per aver guardato il nostro canale. Grazie per aver guardato il nostro canale. Grazie per aver guardato il nostro canale. Grazie per aver guardato il nostro canale.